Naturalmente è ovvio domandarti giornalisticamente dell'incrocio con Ivan Iuric ma io ti domando anche questo Torino che si affronta come lo affronta il Verona e parlando appunto del confronto con Iuric spesso hai detto che voi vi confrontate con idee simili ma anche diverse che cosa avete in comune e che cosa di diverso dal punto di vista? Ora non è momento di parlare di queste cose, di differenze, non me la sento oggi di risponderti questa domanda in quella direzione io voglio parlare della partita, a me questo che dite voi è di amicizia, amicizia e amicizia, poi lavoro e lavoro là c'è domani alle 6 di fare una gara seria, una gara dove bisogna sbagliare niente è una gara importante che sarà difficile, loro hanno questa fisicità, hanno questo modo di interpretare molto simile a noi vediamo chi ne esce meglio domani a proposito di fisicità e di un rientro che immagino ci sarà, se lo dici tu, se puoi dircelo se Barac, Antonin Barac c'è? No, non dico niente della squadra, vediamo oggi c'è un timoramento, lo facciamo poi verifichiamo è una gara dove devono giocare quelli che sono pronti a dare una battaglia quelli che non sono pronti a dare una battaglia domani non giocheranno, ecco, lo dico così Alessio Facincani, Tellarena di nuovo buongiorno mister il Torino ha principi di gioco simili a quelli dell'Atalanta che avete affrontato domenica scorsa le chiedo in che cosa dovrete cercare di essere più bravi per portare a casa un risultato positivo rispetto ovviamente a una settimana fa Io penso che se lei vede tutte le partite di Atalanta di quest'anno qua raramente si vede che una squadra di quello visto in 90 minuti merita se non stesse cose anche magari qualcosa di più Io vedendo la partita dopo due volte io penso che era 55-45 per noi se si guarda punti di pugilato che è in calcio non c'entra niente però c'entra per capire noi, capire potenzialità di questa squadra anche in questo momento abbiamo disputato una grande gara poi purtroppo nel calcio basta un tiro, una deviazione, dettagli, tutto quanto Io spero di ripetere la stessa gara perché alla fine sono tre squadre che si somigliano mi aspetto a una gara molto simile Una domanda gliela faccio anche su Kevin Lasagna a proposito di momenti magari anche un filo sfortunato miracoli del portiere ma sta ritrovando però quella Lasagna che magari aveva conosciuto ai tempi di Udi in questo momento? Sta veramente da Dio io sono contento di questa cosa qua perché è un giocatore serio un giocatore importante di Serie A sono veramente contento che sta veramente bene Luca Chiarini, tutto a Mercato Web Ciao mister, buongiorno anche da parte mia io ritorno un attimo sulle caratteristiche dell'avversario al di là delle differenze tra lei e Juric che non vuole toccare giustamente le chiedo, affrontare un avversario comunque nel quale vi specchiate in un certo modo per caratteristiche è un vantaggio o è uno svantaggio? nel senso affrontare comunque una squadra che vi assomiglia e che quindi conoscete bene io non la vedo in quel modo là vantaggio o svantaggio perché giocano uguale io la vedo svantaggio perché è una squadra che è tosta che è difficile affrontarle come penso che pensano anche loro secondo me è questo il discorso non è discorso se somigli a te però quando valuti avversari valuti questa squadra è questa questa è questa, questa è quella domani c'è da guadagnare ogni metro da guadagnare ogni duello ogni seconda palla c'è da guadagnare ogni calcio d'angolo e soprattutto una cosa importante è di non sbagliare niente questa roba qua di non regalare niente deciderà questa è la partita Poi vorrei fare una domanda su cancellieri che abbiamo visto fare buone giocate in Coppa Italia lei quando arrivò insomma nelle prime settimane disse ha bisogno di tanto lavoro per trovare una collocazione in questo sistema le chiedo a che punto è il suo processo di maturazione tattica se ci sarà la possibilità di magari di vederlo un pochettino di più in avanti o se pensa invece che abbia bisogno di farsi le ossa altrove magari anche in una categoria inferiore lo vedo in crescita anche dal punto di vista mentale perché anche per lui sono tante cose nuove lui chiaramente ha questi dotti che sono molto interessanti poi quelli davanti stanno facendo sempre tutti bene lui faceva anche fatica a trovare questo minutaggio qua io dico sempre che dipende dai giocatori sempre da lui decidono loro praticamente perché raramente un allenatore se pensa che qualcuno merita qualcosa di più non gli dà questo di più può sbagliare però si sbaglia 10% non si sbaglia di 90% allora tocca sempre ai giocatori cioè sono loro che decidono il loro destino Alberto Fabri e la Slive già mister ben trovato nota positiva dell'eliminazione della Coppa come ne abbiamo parlato appunto nel post partita sono stati i giovani che tu hai fatto esordire e ti chiedo Coppola verrà confermato in prima squadra visto appunto la scarsa purtroppo numericamente parlando di senso letto di spolizione Diego ha fatto bene siccome si è allenato poco con noi mi è piaciuto tanto da ora in poi sarà sempre con noi si allena con noi perché lo vedo un giocatore interessante ieri sono usciti invece le prime quattro giornate del girone di ritorno che per la prima volta sarà asimmetrico tu come giudichi appunto questa nuova formula che il calcio italiano ha deciso di copiare da quello inglese non so non ho pensato di questo cambia poco per me non vedo l'importanza di questa cosa qua nel calcio c'è una cosa che c'è di questa cosa qua che è più importante di questa è quando becchi qualche squadra in che momento però questo non dipende da sorteggio Francesco Giuseppe D'Amato è l'AS1903 Mister buongiorno tornando alla partita di domani lei si aspetta una gara molto dispendiosa in termini di energie fisiche? Chiaro di sì fisica anche mentale penso che più o meno abbiamo risparmiato credo che sarà un problema perché partita di Coppa era distribuita più o meno stessa maniera con la Rosa ecco per chiudere io le vorrei chiedere la partita di domani metterà salvo modifiche tattiche dell'ultimo minuto tre quartisti di ottimo spessore ora lasciando stare per un momento Baracca e Caprari sarà difficile contenere giocatori come Piazza come Brecalo come Praet e pensa poi vorrei chiederle se lei pensa che proprio i tre quartisti possono essere decisivi per la partita di domani loro hanno loro giocatori noi abbiamo i nostri poi io penso che i miei sono più forti cioè io io ho una grandissima stima di miei giocatori penso che sono forti penso che domani andremo là a dimostrare questa forza qua poi giustamente d'altra parte loro pensano che sono loro i giocatori più forti è giusto che così e alla fine a parte queste cose che io ho detto prima come sarà la partita alla fine la qualità di ognuno decide la partita un tiro una 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 corsa in più che anche è anche quella una qualità un scatto di più un scatto fatto meglio una preventiva cioè alla fine le le qualità di singoli decidono noi diamola indichiamo la via è modo di fare perché non è che vinciamo noi perché facciamo vincono per vincono giocatori perché hanno qualità che in quel momento erano erano la per decidere la partita io spero io ho grande fiducia e stima i miei giocatori e spero che domani la decidano loro non solo quelli davanti ma anche quelli dietro che stanno facendo stanno facendo un gran bel campionato ecco grazie a tutti